Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, come vedete la mela dell'Eden ragazzi, la mela dell'Eden, è fantastica, l'ho acquistata, i miei utenti di Telegram lo sanno quando l'ho acquistata, quindi anzi vi invito ad iscrivervi al gruppo Telegram per avere tutte le notizie in anteprima, ovviamente questo unboxing lo vedranno gli utenti di Telegram molto dopo perché li passerò più o meno a una settimana così per non mettere solo unboxing Mela dell'Eden che si illumina, ha un sistema LED interno, ha questa base degli assassini, vediamo se riesco a farvela vedere, qua sbrilluccica tutto, vediamo se mette a fuoco, vedete così, qua di lato Michael Fassbender perché questa è la mela che viene utilizzata all'interno del film Assassin's Creed Che dire, andiamo subito ad unboxare, così credo che si veda, mettiamo qua al centro Ok, coltellazzo, il solito coltellazzo Vediamo tutto Qui scusate la tastiera di sfondo, ma purtroppo lo spazio è quello che è Ok, abbiamo aperto Andiamo ad aprire, vediamo che cosa c'è dentro Ah, la solita plasticazza del piffero Ok, questa la mettiamo di lato Vedete, mamma mia, è bellissima, bellissima Metto più al centro, così Poi pesa pure Allora, apriamo Apriamo tutto Senza spaccare Tipo senza spaccare si distrugge tutto Verdo mille mila file Si rompe anche il computer Allora, mamma mia quanto è pesante Il bottoncino dove sta? Ah, qua Neanche si vede Ok, perfetto Qui c'è la mela dell'Eden, ragazzi Vediamo, vi sposto un po' la luce Vediamo, niente C'è sempre questo effetto sbrillucicoso Allora, è molto molto dettagliata Fatta molto bene, devo dire È anche abbastanza pesante Plastica dura, molto dura Devo dire, qui c'è la base Che a sua volta invece è molto leggera E non si vede un piffero Non si vede un piffero Vediamo, spostiamo la luce Vediamo se si vede qualcosa Ok, già va meglio Ok, vedete qui il logo degli assassini Qui pure, dove si appoggia C'è il logo degli assassini Al quanto consumato Perché ovviamente Sta cacchio di me la fanno avanti e indietro Sti assassini per giocarsi Allora, vediamo come funziona l'illuminazione Si apre così Una volta aperta troviamo il logo degli assassini Dobbiamo semplicemente sollevare questo E mettere due mini stilo Per attivare i quattro led che sono all'interno Presenti, ovviamente Come un pirla avevo smontato Queste due viti che servono a togliere il pannellino dei led Come un video Allora, andiamo a montare il tutto Ok, adesso è chiusa Spegniamo tutto Per creare l'effetto Guardate Cioè, non rende completamente l'idea Cioè, ragazzi Veramente Questa mela Di presenza È eccezionale È eccezionale Cioè, proprio Qualcosa di stupendo Cioè, voi la mettete così Non so qual è l'ordine giusto Qua la metto più al centro Non si riesce a vedere Qui c'è un tastino apposito Per attivarla Poi la attivate La spegnete Ora siamo tutta al buio Ma è davvero fighissima Noi premete Appoggiate sulla base Credo che vada così Credo Per fare più luce dietro Ma veramente Veramente stupenda, ragazzi Acquisto consigliato a tutti gli amanti Della saga Soprattutto dopo che avete Il frutto dell'Eden Potete controllare le menti di tutte e quante le persone Quindi io controllerò le vostre menti E vi invito a lasciare un mi piace Se non trovo neanche un mi piace Significa che questa mela non serve un cacchio E che io faccio schifo Sad moment Ok ragazzi Questo video finisce qui Io e la mela vi salutiamo Qua c'è tutto un patatrack da sistemare Che schifio è Sistemiamo tutto E che dire Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Grazie per aver visto il mio video Ciao a tutti